Ecco, energie condivise, io parlo a nome di ECO e in particolare di chi ha lavorato con me a questa che è una proposta su una definizione concettuale del processo che stiamo affrontando, di quella che è la visione del piano. Hanno lavorato con me Mauro Dapieve e Claudio Costalonga. Di fatto quello che stiamo vivendo è emerso un pochino anche dalle varie istanze, questa fase di partecipazione ci porta di fronte a un passaggio fondamentale, siamo in una fase dove poi tutte queste istanze si chiudono, si chiudono tutti gli elementi di riflessione, poi ci sarà un progettista che in qualche modo andrà a proporci delle soluzioni, andrà a proporci una versione che è impegnativa perché poi di fatto abbiamo a che fare con uno strumento che da un lato sembra prevalentemente, lo è in alcuni casi, uno strumento per gli addetti ai lavori, e rimane quindi chiuso a pannaggio solo di alcune categorie. Dall'altro ha dei riflessi e comunque andrà ad influenzare i nostri sistemi di vita, le nostre modalità di vita, quindi quelle che sono poi le istanze che si incrociano anche nelle nostre discussioni. È stato molto interessante partecipare a tutta questa fase, ora vediamo un pochino quali sono secondo noi gli aspetti che andranno o che dovranno o che dovrebbero caratterizzare la seconda parte del piano. E quindi l'aspetto della sostenibilità, per come lo vediamo, insomma anche perché l'affinità che raccogliamo all'interno della nostra associazione, diventa un po' il piano di confronto, il dominio su cui tutte queste funzioni poi dovranno trovare attuazione, dovranno convergere e andare a influenzare il piano. Quindi abbiamo provato anche a definire quelli che sono i principi della sostenibilità che in qualche modo dovrebbero essere, o auspicabilmente, dovrebbero essere riconosciuti e condivisi poi anche in questa fase di passaggio. Questo documento conclusivo praticamente non potrà esimersi dalla definizione, dall'inquadramento di una visione generale proprio in chiave di sostenibilità. Quindi abbiamo provato, riprendendo poi dai temi e dai principi che sono dibattuti anche a livello europeo, anche se non all'agenda 21, che sono processi abbastanza maturi e anche in grado di influenzare questo sviluppo, l'insieme dei principi sulla base dei quali poi andranno a definirsi gli obiettivi. Gli obiettivi che ci piacerebbe ritrovare nel piano e poter leggere in quelle che saranno poi le varie impostazioni, il progettista proporge una versione, ma comunque le trasformazioni dovrebbero, secondo noi, essere accompagnate alla individuazione marcata, forte, esplicita degli obiettivi. Perché attraverso gli obiettivi poi si potranno anche maturare quelli che sono gli indicatori e tutte le attività di monitoraggio che dovranno essere affidate alla seconda parte del processo che ha inquadrato Monia, benissimo, molto meglio di noi, ma anche poi la possibilità di protrarsi nel tempo perché poi il piano sviluppa i propri effetti in una durata infinita, non è neanche quasi classificabile. Ci siamo rifatti anche alcuni spunti che proponiamo solo a titolo, per quelle che sono le nostre valutazioni. Per esempio un concorso di alcuni anni fa delinea l'individuazione dei corridoi verdi che è una traccia, insomma, di tutti gli esiti delle proposte progettuali che ormai sono passati più di dieci anni, ma secondo noi molto significativa e quel concorso potrebbe essere anche oggetto di spunti molto importanti. Da parte nostra pensiamo all'importanza anche essenziale della proposta di alcuni ecoquartieri, cioè degli ambiti molto marcati, molto forti, in cui gli indicatori di sostenibilità ma anche i requisiti ambientali dal punto di vista dell'energia, dal punto di vista della qualità costruttiva, sia portata un po' alla massima espressione perché il peso degli esempi, come abbiamo visto in altre realtà europee, è fondamentale perché riesce a condizionare e a caratterizzare poi tutti quegli sviluppi delle trasformazioni che vi vanno intorno. Assumendo la centralità dei principi della sostenibilità, la definizione diretta ed esplicita degli obiettivi, ma poi che anche il piano contenga già una visione e la definizione degli strumenti che potranno rappresentare un'ipotesi di monitoraggio. Grazie.